a proposito di video delle partite perché adesso sono le 10 e mezza non so che hanno fatto l'orologio quindi non scherzo e non so che le sono comunque saranno le 10 e mezza 11 più bene siamo una ragazzi che partite bene vento risultato finale bene vento 4 cosenza 2 è stata una partita bellissima una partita che in tutte due le partite tutte le squadre hanno dato un calcio meraviglioso un calcio come si dice un calcio emozionante un calcio come si dice va bene ma ciò che diciamo che funziona cioè ci ha fatto divertire va bene perché a inizio la partita divertiamoci alla fine ci ha fatto divertire il calcio e niente io vi saluto ci vediamo domani con tanti nuovi contenuti perché poi domani sono tante partite e niente io vi saluto e ci vediamo domani ciao